Ciao a tutti, questa sera andiamo a vedere le Christmas lights, le luci di Gaeta di Natale sono bellissime, abbiamo appena parcheggiato e abbiamo visto un polpo gigantesco, un polpo gigante, grande, andiamo a vedere, Gaeta organizza da un paio di anni a questa parte queste Christmas lights che sono bellissime e noi non le abbiamo ancora viste perché eravamo in America, quindi siamo curiosissimi anche perché Gaeta dista da Formia 5 minuti, quindi non possiamo perderci questa occasione, siete pronte? Sì, andiamo, 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 ah guardate quanto è caratteristico il mercatino del pesce che si fa tutte le sere e io da piccola venivo con la mia mamma e mio papà a comprare il pesce, è proprio lì, c'è il signore che dice, questo è come ti sta a fare, ah 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 ah, ciao è bellissimo! Do you like it? Giuseppe è felicissima, noi siamo degli appassionati delle luci di Natale, con questo sfondo meraviglioso del mega polipone gigante, vi raccontiamo brevemente che cosa facciamo in America in questo periodo andavamo in un parco, che è un parco vicino casa, perché lì c'era la tradizione di andare a vedere le luci di Natale dalla macchina ovviamente, allestivano un parco, tipo un bosco pieno di alberi e dovevamo seguire un sentiero, le macchine andavano pianissimo, allora prima di entrare quindi compravi da mangiare, compravi pop corn e potevi acquistare la cioccolata calda, ti ricordi? Poi dovevi sintonizzare la radio della macchina sulla frequenza fatta proprio appositamente con tutte le canzoncine di Natale, quindi tutti ascoltavamo le stesse canzoni, quindi Rudolf the Red Nose Reindeer had a very shiny nose e seguendo il percorso potevamo vedere tutte le luci di Natale, quindi questi alberi pieni di luci, dei personaggi, cascati, ah vi ricordate le luci che saltavano da un lato all'altro della strada? di solito ci andavamo per il mio compleanno che è proprio nel mese di dicembre e quindi questa era la tradizione americana, si faceva ovviamente in tanti località, non solo dove vivevamo noi, era molto bello e l'atmosfera natalizia si sentiva tanto, però adesso siamo a Gaeta e ci guardiamo le luci di Gaeta che sembrano promettere bene c'è il popotamo! c'è anche un ippopotamo bellissimo! che bello! oh guardate lì blu! bellissimo! 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 Sì! Ciao Pinguino! Quanto sei carino! Buon appetito! E come fanno i sea lion? Oh, oh, oh! Hey girl! Vai! Forzo sei bellissimo! Oh, oh, oh! E'a bisogno! E'o oh! E'o oh! E'o oh! O Kızi! E'o oh! Bellissime! Vai! Vai! E lei, Titi? No, lei, Titi! Quanto mi veci? Ciao, mamma, noi partiamo! Che belli! Bellissime! Eccole! Titi! Bellissime! Che carino! Che carino! Che carino! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.